Se tutta consigliare, ieri pomeriggio a Viale del Fante è quasi esclusivamente incentrata sul MUOS di Niscemi e sugli effetti che l'impianto di comunicazione satellitare statunitense può avere sulla salute dei cittadini e dei territori limitrofi e sul costruendo aeroporto di Comiso. Dopo un lungo e articolato dibattito sono state approvate due emozioni contro l'installazione del MUOS, la prima delle quali presentata dal consigliere provinciale Ignazio Nicosia. Nicosia ha proposto una conferenza dei servizi con il co-involgimento dell'ARPA, della società di gestione dell'aeroporto, dei sindaci e dei parlamentari per discutere della questione. L'altra mozione è stata invece presentata dalla sesta commissione consigliare e fa voti al presidente della regione siciliana di ottenere dalle autorità competenti la documentazione relativa alla piena compatibilità dell'impianto MUOS di Niscemi col flusso aereo dell'aeroporto di Comiso. Sulle due mozioni è intervenuto anche l'assessore provinciale al territorio ambiente Giovanni Scucces che ha informato il Consiglio delle iniziative messe in campo dall'amministrazione per ottenere le risposte ufficiali ai quesiti posti. Le due mozioni sono state approvate in unanimità. Il Consiglio ha approvato anche il riconoscimento di due debiti fuori bilancio emessi dal giudice di pace di Ragusa. La discussione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno è stata rinviata domani alle 16.